gentili telespettatori buona giornata non si è quasi più parlato di covid 19 ormai è passato del tempo richiami vaccini non si è più parlato di quasi più di nulla ma arriva la notizia che è stata identificata per la prima volta in italia la variante arturo la scoperta al sabatteo di pavia è contagiata una donna il virologo fausto baldanti dice non c'è nessuna evidenza su maggiore gravità e capacità di infettare anche bertolaso rassicura arturo è in italia non è una frase in codice di radio londra no arturo è in italia è la nuova variante del covid è stata identificata dall'equip del professor fausto baldanti direttore dell'unità di microbiologia e virologia del policlinico san matteo di pavia nome scientifico di arturo è xbb punto 1 punto 16 al momento dicono non sono presenti notizie di altre identificazioni di arturo a livello italiano commenta guido bertolaso assessore alla sanità di regione lombardia in realtà secondo l'ultimo report dell'istituto superiore di sanità aggiornato al 4 di aprile i sequenziamenti attribuibili a xbb punto 1 punto 16 relativi sottolineaggi sono quattro abbiamo prontamente avvisato il ministero della salute aggiunge bertolaso dell'arrivo di arturo e i nostri laboratori sono in continuo contatto con l'istituto superiore di sanità con i quali collaborano alla sorveglianza nazionale e fai complimenti a baldanti e alla sua equip per l'importante attività di sorveglianza portata avanti da tutti i laboratoristi lombardi baldanti parla di questa variante arturo e dice è stata identificata attraverso lo screening attivo in ospedale che include sia pazienti ricoverati sia quelli che accedono al pronto soccorso in particolare il ceppo è stato individuato in una donna curata al san matteo di pavia dal 27 marzo al 31 marzo le è stato dato ossigeno per superare i livelli e i lievi sintomi del contagio anche considerati i suoi precedenti problemi polmonari non ha avuto febbre ed è sempre stata in condizioni stabili l'infezione non le ha lasciato conseguenze ed cdc che il centro per il controllo delle malattie infettive europee dice sempre il virologo il 23 marzo ha emanato un report ma non ha ancora associato la variante a caratteristiche di maggior impatto né sulla gravità né sulla capacità di infettare al momento stiamo valutando attentamente la situazione per questa nuova variante conclude berto laso non sono presenti evidenze per prevedere misure aggiuntive rimane sempre importante come prevenzione non solo per il covid ma per tutti i virus respiratori una corretta igiene dice delle mani e l'utilizzo di mascherine in presenza di persone fragili malate e quando si hanno i sintomi dell'influenza io vi posso dire che ancora si trova qualcuno che indossa la mascherina ieri sul treno ho visto qualche persona con la mascherina in giro ogni tanto si vede qualche persona con la mascherina anche al supermercato però diciamo che oggi di covid non se ne parla più non se ne parla più in televisione fino a fino a qualche tempo fa si parlava solo di covid in televisione e abbiamo assistito a tutte quelle litigate create ad arte dalle trasmissioni televisive per raccogliere audience e per fatturare con le pubblicità tutte quelle litigate tra il vax il no vax il medico il medico alternativo quello che diceva una cosa quello che diceva al suo opposto e l'attore che parteggiava da una parte poi il poliziotto che diceva un'altra cosa ecco ormai diciamo che oggi di covid ne parla solo molto frequentemente la verità ma anche la verità piano piano vedete al giornale no anche la verità piano piano sta cominciando a parlarne sempre meno prima fino a qualche mese fa tutti i titoli ogni giorno parlavano di covid di covid di covid oggi una volta ogni tre quattro giorni ma diventa sempre più diradata la cosa in televisione non ne parlano assolutamente più nessuno ha parlato di richiami di richiamini di quarta quinta sesta dose non non se ne parla più attenzione che il diciamo l'organizzazione mondiale della sanità oms non ha dichiarato la fine del covid ancora ancora non c'è la dichiarazione della fine della pandemia secondo le organizzazioni mondiale della sanità esiste ancora l'epidemia di covid nel mondo ma non ci sono più restrizioni ancora se prenotate qualche ero vi dice devi controllare che nel paese dove stai andando non ci siano restrizioni prove da fare insomma credo ormai che tra poco sarà solo un ricordo del un ricordo del passato il mondo ce l'ha fatta è andato avanti come era come era ovvio era impreparato prima e impreparato anche oggi se dovesse arrivarne un'altra sarebbe esattamente la stessa cosa piani pandemici non aggiornati capi del governo che improvvisano ministri della salute improvvisati ecco diciamo che cosa ci ha insegnato questa pandemia cosa insegnato alla politica ai governi un bel niente effetto positivo che hanno accelerato le ricerche per un vaccino sul cancro che dovrebbe essere pronto entro il 2030 dovrebbe esserci un entro cinque anni un vaccino su parecchie tipologie di cancro e quello sì che è un qualcosa di stoico grazie a tutti e arrivederci a presto